Oggi è sempre anche quello idrogeologico che ci fa preoccupare, cioè noi se non abbiamo dei sondaggi precisi, delle indagini preventive che ci facciano capire la volontà del progetto noi oggi ci siamo parlato di nulla, con tutto il rispetto, non è che il carissimo, perché? Perché queste cose purtroppo sono molto complesse e io con l'architetto non mi sembra... Ma perché la procedura abbiamo dato di un progetto preliminario che era necessario di costruire profondi? Ma sicuramente, ma la questione di fondo valeva. Signor Presidente, io sono un tecnico e sto parlando un po' da secolo, ma io parisco, come ha detto il Consiglio Comunale, posso non dare il dirizzo. Allora, noi in quella derivata abbiamo dato il dirizzo di un posto alternativo, dicendo che comunque, cioè, che è quello che si è detto praticamente, però è che si entra già nel medio, che cosa intendo le parole per mettere il termine, evitiamo che ci indica che in uno di quei punti dove passa la volta ci sono delle problematiche di attività geologiche. Viceversa, che qualcun altro ci vede in giro dicendo che alcune indicità di quell'impianto che la visione non sono diventate solo capito, faccio per dire che non sto organizzando. Allora, prima di andare ad essere debonati di superficialità, visto che noi stessi, da un'invasi, da gli altri detti, soprattutto agli ingegneri, perché mi pare che ce ne possono stare nel progetto fatto da Perotto, denunciando alcune elementi indicità di aspetti preliminanti, forse sarebbe stato il caso di se tessi, innanzitutto, a prevedere un incontro. E su questo è il base di fare un incontro con tecnici qualificati che mi dicessero a me, ma, ma, ma soprattutto a chi ne dovrebbe farlo? Cioè, alla regione, all'acqua d'oltre, non so se ho fatto altro, a chi metterebbe quali sono i rapporti con tecnici e soprattutto quali sono gli aspetti di approfondimento di grande professionale su tutte le questioni che possano non farci mettere sotto scapola e mettere in terra. Cioè, quello che si vuole dire che, probabilmente, per esempio, è un atteggiamento un po' più... ...caudial. ...caudial. Questo perché, ripetisco, perché non vorrei che, nonostante, insomma, sia sempre ripetendo dicendo che più che qua, o venvenga questo piuttosto che in seno, in questo momento d'inciso, venvenga... Però, il nostro ruolo di consiglio umano, ahimè, e lo ripetono spesso, non è quello che deve essere dedicato, mi indirizzo poi con quella revisione. Noi con la delibera, ritengo, gestire il 2 marzo, dovevamo già andare con una bandiera forte a Bari a far sentire la nostra voce che stiamo adattando dei mezzi e sono fortemente preoccupato perché può capitare che in questo marzo di tempo ci siano alcuni, e in funzione di questo forse è il caso di cominciare a muoversi più dal punto di vista politico sulle questioni che vengono affrontate, perché altrimenti rischiamo di rimanere noi a parlarci addosso, che poi è sempre un rispetto numero di persone che più o meno qualificate, non mi interessa loro, o quantomeno si preoccupano di pensare al futuro del nostro territorio, dei nostri figli, a come si è voluta, è stato citato come nel pugno, anche in quel caso, perché era un'area depressa, un'area vagunale, ci sono testimonianze storiche, pre-storiche di quello che è successo nel lungo, ma lì la grotta doveva spendere 100 milioni in più per cambiare il tratto della convolta che passava per la zona più logica, doveva fare due opzioni di sollevamento, cioè sono stati spessi un milioni in più, per aver sbagliato in fase iniziale prevedendo appunto di fare tutto sulla strada, la strada che poi ha fatto trovare le sorprese che potevano essere previste in fase preventiva. Allora, benvenuto a tutto questo, forse è il caso di, a mio parere, non voglio fare la controproposta, vuol dire che probabilmente andiamo avanti per la nostra visione politica, che quantificiamo, ufficializziamo quello, e poi facciamo un tavolo tecnico, abbiamo un tavolo tecnico proposto chiaramente dal centro scuola di Alminani, partendo da questa proposta, in cui ci sia un geologico, un ingegnere geologico, dei rappresentanti, in cui ci siamo magari i rappresentanti nostri che possono condividere questo, e farci dire quella di ingegnere formosa e generale santo dove possono essere i passaggi, perché anche su questo dobbiamo capire, può l'amministrazione monale far proprio un progetto per eliminare e portare l'attenzione della regione, deve essere come diceva l'ingegnere santo l'acqua e l'otto, che invece deve portare, ci sono dei passaggi molti grandi e culturali, lo dico ma, lo dico ma mi spiaceva, perché purtroppo la protocrazia ha interrotto e ha, è stata utilizzata fortemente dalla politica per far sì a quelle cose che inizia a parte dalle, per cui, io stesso mi avevo fatto ogni giorno, per modi di lavoro, per quello che sia, sono fortemente stanco tutto il restamento dell'Italia, mi hanno addormento degli ultimi mesi, per cui, questa è la mia missione, è tutto trasparente, è tutto serena, da questo punto di vista, ma rimanisco, ringrazio comunque il Centro Storio di Milano per aver dato l'occasione alla città di confrontarsi su questi, su altri temi, come probabilmente dovrebbe fare qualcun altro. Grazie.